Le luci sono accese. È aperta. È fuori posto. È come se qualcuno stesse spostando le cose. Ciao, tesoro. Non rientro per cena. Non mi erano più servite. Non mi erano più. Non mi erano più. Non mi erano più servito. Ehi, c'è qualcuno? Volevo partire. Ne è valsa la pena. Volevo partire. 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 Sì. 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 Sono arrivata. Finalmente sono in vetta. La firma energetica è proprio... proprio qui. Sì. Ho visto una creatura volante. Cos'è qui la screscenza? Sì. 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Il portale di teletrasporto del deserto mi ha portato nella cittadella, oltre la muraglia della costa. La pallida ombra è quasi a portata. Le scansioni posizionano l'origine della trasmissione presso la torre della cittadella. Ho incontrato macchine ostili. Automi indipendenti. Sì! Ci siamo. Il viaggio sta per finire. L'origine della pallida ombra è qui. Presto capirò perché. E seppellirò nel passato questi orribili ricordi. Ma quanta desolazione. Questa è la loro città. Non restano che cadaveri e macchine distrutte. Procedo verso la torre di trasmissione. È il nostro triste destino. Atlante reggeva. Prometeo soffriva. Selene scavava. Da qui vedo il punto in cui l'orizzonte si fonda ai bordi dei miei occhi. Non voglio diventare così. Non voglio diventare così. Non voglio diventare così. E' un po' di merito. Ma non voglio diventare così.